Abbiamo un mondo del sotto zero con il mondo del sopra zero. Il gelato gastronomico diventa una sublimazione delle materie. Qualcosa che va al di là delle normali degustazioni, formaggio, vino. Tutte le cose che si scoprono per la prima volta danno una sensazione che poi non si riflette più. Una fusione e un abbinamento importante e nuovo.